Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta Ciao Io sono Enrico Zara de X Che ovviamente conoscerete già tutti perché Qui in due facciamo 10 anni di Youtube Nel senso che siamo su Youtube da 5 anni a 5 anni Non è vero, non è vero Sono giovanissimo io Io devo rilanciare le mie immagini, devi dire che sono giovane Sì, ma il veterano su Youtube Fa sempre il fascino Guardate quanto è che stai su Youtube Allora ho fatto il canone 6 mesi fa, allora che boh Io sto su Youtube da 7 anni Magari ho fatto più video di me Dettagli trastrabili Nell'eventualità assurda che non conosciate Già Enrico, qui sotto nel Infobox Ci sono i link al suo canale Abbiamo una cosa, porno, perché oggi Oggi faremo cose porno, quindi questo video Lo vedrete su YouPorn, molto porno Questa è una shit, chi indomina la shit? Shit, oh, ultimo tango a Parigi No, l'ho detto! Eh, non ce l'hai detto Grave, molto grave, oggi siamo ospiti A Together, voi avete visto un sacco di cucine da Incubo Che io ho già tirato a Together Smarchettiamo Together Together, la casa di tutti No, va detto in inglese perché sai Ernesto ha girato il mondo E' stato a Mosca E' stato a Belluno Together is a cross inspirational place Che te vieni qua E fai le cose, puoi partecipare a un workshop Si, fanno un sacco dei Eventi, di mostri E noi per esempio oggi lo stiamo usando come teatro di posta Per le cucine da Incubo Andate sulla pagina di Together, vedete tutte le info sul sito di Together Il sito vi spiega meglio di noi Cos'è Together Comunque noi oggi siamo qui per fare cosa? Perché lei mi ha detto vieni, beh però Credo che cuciniamo Allora io so fare l'ovo al tegamino E la pasta col sugo pronto Ma che bravo ragazzo Siccome siamo in febbraio Siccome siamo in gennaio però siamo alle porte del febbraio Le porte E l'ho trascinato a fare una ricetta carnevalesca Carnevalesca Che non c'è la carne Non c'è, no la carne non c'è Un dolce, all'aroma un dolce Se ci metti la R è ancora il dolce E' il dolce Certo quello di tenere per forza Questo è un classico Il grembiolino ridicolo per l'ospite Comunque noi oggi faremo un grande dolce di carnevale Il panettone No! Le castagnole Che io sinceramente non so cosa sono Facciamo le castagnole, ma queste sono le castagnole Siccome l'anno scorso facevamo le frappe con Franz E in ogni regione d'Italia frappe si dice in maniera diversa Ecco io ricordo cari amici Il tubo che sono Toscana In Toscana In Toscana le frappe sono micenici Il castagnole io non so Fatecelo sapere voi Se le castagnole le conoscete, se le chiamate in un altro modo Io direi che è il momento di E' il momento di cominciare, andiamo a cominciare Sono prontissimo a mettere il guantino Questo è un guanto usato, preso dalla strada Ragazzi sono nuovi Innanzitutto ci servono 150 grammi di Farina Farina Poi ci servono 100 grammi di Tavolo Burro Burro Quindi mezzo burro, quindi ci serve un Burro Burro 120 grammi di Zucchero Zucchero semolato Un pizzico di sale 250 grammi di Acqua Che ci darà il rubinetto Il rubinetto si spera che sia potabile Sei a Roma e c'è Quattro Quattro uova E infine Granissimo Olio per friggere E poi insomma faremo anche la crema pasticcera Ma quella la vediamo dopo Perché poi la crema pasticcera ci serve per inserirla dentro alla castagnola E che cosa abbiamo per inserire la crema pasticcera dentro la castagnola? Il pornone! Il sirigone! Con tutte quante le sue screscenze Ma belle le sue Si diciamo Comunque già Un simpatico Un colore vivace Poi nell'impasto ci mettiamo un po' di guanti anche Sì mi devo metti i guanti? Certo Non mi entra Guarda 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 Dai mettietano ti sono pure l'arte Il problema che noi abbiamo adesso Voi non ascoltate questo Che non c'è a bilancia Tu sanno gli ingredienti Beh si fa occhio Io ho delle mani molto sensibili A cazzo le case Allora quindi mettiamo l'acqua in una pentola piccola Insieme Pentola? Che pentola? Io dico pentola Pentola piccola insieme al burro e al sale Quando il burro sarà sciolto L'acqua sarà arrivata ad ebollizione Toglietela dal fuoco e versateci tutta insieme la farina Guarda ci sono le pentole volante Vieni Il wok Sopra com'è quella? Ah quella sì quella Quella dietro questa Questa piccola Per porre fine alla mia esistenza È troppo pericolosa Ma è una roba di bicicletta questa Scusa Ha cercato di uccidermi Non è vero 250 potessi No 250 ml Nella pentola Mettete in una pentola piccola insieme PENTOLA Che palle che fa così per tutto il video Allora il sale era un pizzico Quanto è un pizzico? Quanta è l'unità di misura del pizzico? Eh no questo è troppo pizzico Questo è troppo pizzico Dai dai Prendi il mestolo Prendi il mestolo Usiamo la forchetta per girare Perché in questo momento non troviamo altro Questo è un punto molto cruciale della ricetta Girare l'acqua Non è neanche sul fuoco quindi Dobbiamo mettere il burro Allora 100 grammi di burro Questi qua sono 200 quindi la metà di acqua Attenzione che si Smarmella Va bene vado spezzo eh Spezzo ma spezzo Eh vale lì Corpo di burro Lo metto nell'acqua Questa cosa è strana Sono proprio certi che fosse così Non mi toccare mai Non mi toccare mai VENTOLA 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 Allora guarda guarda Oddio pazzesco Guarda guarda Questa è la scienza Questa qui si chiama scienza Questo qua si deve sciogliere tutto La farina ce la devi mettere Allora dobbiamo tirare fuori da questo pacco di farina 150 grammi Questa è in giro no? Tu che sai la matematica Come citagora Scusa se questo è 250 Millilitri Non 250 grammi Vabbè dai più o meno Sì dai un bicchiere Un bicchiere Ma non un bicchiere intero scusa Un bicchiere otto Intero si dice intero Mamma mia ma questo è un gramma nazi Dai vieni io Non ti mangio il pacco Guarda cosa sta succedendo qui Qui intanto va Succede una cosa Questo è che va Dai mettilo dai mettilo È inutile che lo metto qua Metti un po' Ma che casino Non ti ho messo qua dentro Ok Stai bollendo vado Ma sei sicura che non andavai impassato prima? No no Va impassato adesso Madonna ma fai i grumi Sto facendo i grumi Vai tu continua a scolpettare Mi sta girando la pentola Aiuto Che schifo Io non volevo alzarmi stamattina Fantastico Sembra colla Fantastico Girate fino a far sciogliere bene tutti i grumi E rimettete sul fuoco qualche minuto per cuocere la farina Adesso vengo a infilarti l'uovo Dove? Nella pentola Nella pentola Vado eh Attenzione Rompi l'uovo Con una mano sola Ma non è che ora si frigge l'uovo eh Eh No Ho bisogno di cracco Qui a casa sono solo Carlo Qualcuno chiami cracco Tre Ma come fai con una mano sola? Reggimi la cosa perché vola Gira tutto bene Adesso ti dico che cosa succede Vorrei sapere anche io che cosa succede Ma con una pentola Girate Ventola Allora versateci i grumi Metcati a fuoco Versateci i grumi Oddio Oddio Guarda c'è un pezzo di uovo guarda Un pezzo di gluscio Vabbè più scrocchiarella Ehm Forse le uova le dovevamo far cuocere meno Perché si sono affrittattate diciamo Perché io voglio arrivare alla parte più bella Quella dove inseriamo la crema particolare Non ci vuole lo zucchero qua Lo zucchero non ci vuole? Lo zucchero? Lo zucchero? Lo zucchero? Oddio lo zucchero? Non ci ha messo lo zucchero? Aspetta non c'è scritto Se tu la parola zucchero? E' tutto giusto Ok quindi non c'è lo zucchero Quando c'è ce lo dirà si spera Pallina pallina Vado pallina Andrà bene così Vai Sì va bene Vado Vai ecco Prova prova Schifo è Ehm Aiuto Oddio Oddio No Ed ecco adesso usiamo questo Che è già connesso Sì vabbè usa la pallina quella del gelato No E' uguale E' uguale Non è abbastanza Questo non è abbastanza denso Perché? Perché lo tengono? Che schifo E' vergognosa sta roba Perché mi sono venute meglio a volte le cose? Ci dobbiamo mettere la crema pasticcera Allora la crema pasticcera l'abbiamo fatta Ci è presa anche stranamente molto bene Però, però, purtroppo la videocamera ha interrotto la registrazione Quindi non abbiamo registrato niente Però almeno, cioè, la crema ci sta Quella è giustata Sì, 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 l'ho fatta Poi prima hai registrato la serie, le cose Però non mi torna una cosa Qui c'è scritto crema pasticcera Senti via sto coso Non è niente Sei sicura che la crema l'hai fatta te? Eh, vabbè Violetta, tu devi fare la crema L'hai comprata Per risparmiare tempo Noi ce l'abbiamo già pronta perché non abbiamo tempo da perdere Vuoi assaggiare? Buono, buono, buono È schifo Lo so, hanno delle forme imbarazzanti Questo è un cervello esploso Cioè io non so come faremo a metterci la crema in tutto questo Se la spalmi sopra come fosse una fetta di pane Prendiamo anche questo a forma di canotto Allora, è il momento di farcire le nostre Falle vedere bene altre volte L'odore, l'odore è di fritto Un generico fritto Dottore, prendiamo il nostro siringone Ma tu perché l'intendevi così? Sì, certo Ci serve un altro cucchiaino per riempirla Ci serve un'altra identità Quindi non è che ci serve solo un cucchiaino Oddio, oddio Che bello, non esagerare, aspetta, fermo Ci vanno stantuffo, muo, è sceluto Sì, sì, lo stantuffo Vediamo che sta succede L'ho riempito però Oddio, oddio L'ho riempito Ah, e quindi dentro è veramente vuoto Come le nostre anime Sì, però dobbiamo mettere lo zucchero C'è la sopra C'è la sopra Eh, è sopra Vado Con la mano, con la mano Viene meglio Con la mano Sì, inquadra in qua Guarda, guarda, guarda Ce l'affoghi Facciamo un po' di riprese tattiche Oddio, che schifo Frignoli, frignoli L'assaggio I nostri frignoli Sì, vabbè Se lecchi la crema La crema è buona Non so di un cazzo Sa di frittura Sa di frittura Sa di frittura Quando friggi le braciola No, però l'uovo si sente Se ci fosse un po' meno di sapore d'uovo Cioè, io le castagnone Non so che sapore abbiano Non hanno questo sapore, di sicuro È cruda, va Oddio, io modi Viene la salmonella Ma no, non è cruda È che l'uovo è rimasto affrittata Cioè, è proprio una affrittata dentro Che schifo, basta Cioè, evidentemente la presenza di Enrico ha rovinato tutto Beh, è colpa mia, capito Cioè, non fallivo così dai tempi dei macaron Enrique 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 Fateci sapere Ma che ci devono far sapere? Quanto vi fanno schifo a guardarle da 1 a 10? Se le sapete fare, secondo voi che cosa abbiamo sbagliato? Vedi, questa è una metafora della vita Perché un piccolo errore può rovinare tutta la riuscita di un progetto Quindi attenzione, pensateci E dopo questa incredibile massima Addio Ciao 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 Ciao